Paura la scorsa notte per una persona rimasta intossicata dal fumo respirato nell'incendio divampato nella cucina del suo appartamento in una palazzina di via Rocchia Rossano Veneto. Era l'1.30 quando i vigili del fuoco intervenuti da Bassano con un'autopompa, un'autobotte e 5 operatori hanno spento le fiamme scaturite dal piano cottura che si erano propagate ai mobili della stanza. Danni da fumo all'intero appartamento. Il residente, 48 anni, è stato portato al San Bassiano per accertamenti. L'uso dell'abitazione è stato inibito fino al ripristino dell'impianto elettrico e delle condizioni igienico-sanitarie.